Sì. Claudio ha chiamato te? Sì. 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 Sato. Sì. 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 Oh, è venuto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All right, let's go. Oh, Sean's ready. Sean's ready. Sean's pictures are over. Yeah, let's go, Ryan. We're going to miss lunch, man. Go and put the phone. Oh, we're going to go. Let's go.